...ma sull'altro viaggio... ...allora, qui ci sono i peccati... ...ma sull'altro viaggio... 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 ...no viaggio... ...ma sull'altro viaggio... Sì, io, che sei in là, eh? Sì, vabbè, vabbè adesso. Metti giù la macchina. Oh, c'è la roba. Ah, lo taglia. Dai, mio figlio. Allora, ci vediamo qui. Questi potevano a niente le spalle. E niente, andate, andate, andate qua i cagliariati. Allora, ci vediamo qui. Allora, ci vediamo qui. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 E qui il museo, per caso, non sa? No, il museo, allora, non te ne ha visto. Prosegue per questa strada, a sinistra c'è proprio il cartello che indica museo. Ho capito, grazie a tutti. 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 Per il museo, per caso, avete visto il museo dove si trova? No, grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.